Babbo, io voglio fare l'artista. Ma che artista? Gli artisti sono tutti morti di fame. Io voglio disegnare. Tu devi lavorare. Caro Peppino, ho ricevuto oggi la tua lettera e ti ho risposto subito, perché spero che ti arrivi presto, così potrai rispondermi. Mi facevi tanto ridere quando eri qui a Banari. Ora invece non mi va più nemmeno di uscire di casa. Non c'è nessuno qui che mi fa ridere come te. Marta! Marta! Sto imparando a disegnare, sai? Così potrò mandarti i disegni che ti avevo promesso. Ah, Marta mi ha chiesto di te. Che cosa ti ha detto? Mi ha chiesto se ti avevo visto. E poi... E poi cosa? E poi se siete sempre fidanzati. Non lo so. Sai che faccio? Prendo casa a banca. Peppi! È Tando. Edì! Ciao amore. Ciao. Ben arrivato. Fatto un buon viaggio? Sì, sì. Beh, mi hai fatto vedere la mostra? No, stavamo aspettando. Allora, sogniamo. Peppi, non ti offendere. I tuoi quadri sono bellissimi, però sono... Sono? Peppi, sono antichi. Infatti! ... Grazie a tutti.